Io contentissima perché non vedevo l'ora di poter socializzare un po' con la gente È un mondo che mi ha affascinato sempre molto, devo dire la verità Quindi appena ho potuto e mi sono proprio buttata su quello Ci siamo lanciati anche sulla linea Kids E sta andando molto bene, la campagna la farà mio nipote, Santiago Quindi tutto in famiglia come sempre A breve farò la mia linea, quindi preparatevi Sono curiosa perché vediamo se si riescono a ammigliare un po' quello che è il mondo di oggi Un po' anche più sportivo per tutta la situazione che stiamo vivendo Ancora ancora devo dire che non è tornato del tutto Però piano piano si stanno integrando delle sfilate, degli eventi, un po' di gente E io contentissima perché non vedevo l'ora di poter socializzare un po' con la gente E vedere queste cose dal vivo che in questi anni non abbiamo potuto vedere Abbiamo visto tutto sul digital Io sono contentissima, carichissima, ma devo dire anche che sono molto stanca Perché sono abituata a quella vita di prima E quindi devo dire che finisco gli eventi e torno a casa veloce E sta andando molto, molto voltene Non dico che non pensavo, ma non pensavo che andassi così bene Quindi ci siamo lanciati anche sulla linea Kids E sta andando molto bene La campagna la farà mio nipote, Santiago Quindi tutto in famiglia come sempre È un mondo che mi ha affascinato sempre molto, devo dire la verità Quindi appena ho potuto e mi sono proprio buttata su quello Ho iniziato come fui Abbiamo continuato con il nominate E a breve farò la mia linea, quindi preparatevi Ci sto lavorando, non voglio dire niente prima di Perché ci sto lavorando da un po' Però è il mio obiettivo, quindi punto a quella La mia linea Sì, è il mio stile, voglio portare il mio stile Che a me è piaciuto sempre un po' lo stile hippie Però chic, perché l'hippie proprio qua in Italia non va bene in Europa E quindi un hippie un po' chic, quello è il mio stile Ce la farò, lo porterò fino a qui Al momento no, abbiamo finito con Exxon de Vich Io ho detto sempre che la tv non è la mia passione Non sono portatissima per quello Poi quando arrivano le situazioni io le valuto Al momento non c'è niente in ballo Però non si sa mai, mai dire mai, ecco Grazie 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 Grazie